Eccoci in diretta, ciao a tutti quanti, io sono Giacomo e oggi parliamo di animali, in un modo che probabilmente non avete mai visto. Ma ne approfitto un attimo per dire un paio di cose, questo progetto fa parte del progetto AERCHE nelle scuole, che è per tutti gli studenti e tutti i docenti, per ogni ordine e grado, e che ha l'obiettivo di portare varie informazioni all'interno delle scuole, come appunto la cultura della prevenzione e in generale anche la scienza e la ricerca all'interno delle scuole. Questo fa parte di uno di tanti progetti di AERCHE nelle scuole, che appunto i webinar sono uno di questi, ma poi ce ne sono tanti altri. Per esempio, c'è il progetto Incontri con la ricerca, che permette di avere dei ricercatori AERCHE all'interno delle scuole. Oppure per esempio c'è l'iniziativa Cancro Io Ti Boccio, che è legato a un progetto di distribuzione di arance, miele e marmellate per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Non solo, c'è per esempio il videogioco L'Isola dei Fumosi, che permette di fare informazioni su alcuni argomenti legati appunto al fumo e al tabagismo in generale. Ma in generale tutte queste informazioni le trovate sul sito, oppure anche collegandovi, iscrivendovi alla newsletter, che trovate appunto nel sito scuola.airc.it Bene, questa era l'introduzione. Ora iniziamo. Io sono Giacomo, parlo di biologia, evoluzione, scienza in generale, e lo faccio sul web. E sono veramente contento oggi di farlo qui e di parlare di animali. Animali in un modo che probabilmente, immagino, molti di voi non abbiano mai fatto, mai visto. Vedremo un sacco di animali strani e sono sicuro un sacco di animali che voi non avete mai visto. Bene, vi faccio un esempio. Gli animali che vedete dietro di me, li sapete riconoscere? Secondo me, o quelli che vedete qui, a fianco a me, li sapete riconoscere? Io sono pronto a scommettere che magari uno sì, ma gli altri no. Che animali sono? Ma prima voglio un attimo sondare un po' con dei commenti e capendo un po' dalle vostre classi quanti animali conoscete. Quindi adesso vi faccio delle domande e ovviamente chiedete ai vostri insegnanti di rispondere nella chat che c'è a disposizione di Streamyard. Quindi, prima domanda. Qual è il primo animale che vi viene in mente? Proprio provate a buttare dei nomi in classe. Qual è il primo animale, in generale, che vi viene in mente se io vi faccio appunto questa domanda? Vediamo i vostri commenti su questo argomento. Io vi dico qual è il mio primo animale dopo, però aspetto un attimo i vostri commenti. Ok, non vedo nessun commento. Ok, ok, va bene, va bene, va bene. Allora, il mio primo animale è chiaramente che... Ah, si è bloccata? Ok. Ok. Potrebbe esserci un problema con le chat. Va bene, capita. Allora, io provo a buttare dei nomi che direste, tipo gatto, cane, no? Sono animali. Qualcuno magari dice i pesci. I pesci sono sicuramente animali. Gli uccelli, gli uccelli. Magari qualcuno di voi sta guardando fuori dalla finestra e vede un uccello passare. Sono tutti animali. Poi, anche noi siamo animali. Homo sapiens, la nostra specie, è un animale a tutti gli effetti. Quindi, se qualcuno mi dice, dimmi un animale, o anche dimmi qual è il tuo animale preferito, io di solito dico le persone. Homo sapiens. Ma, a parte questo, adesso vediamo appena si riattiva la chat, se riuscite a rispondere. Immagino appunto che in classe vi avete detto questi animali. Facciamo una seconda domanda. Quale potrebbe essere l'animale più strano che vi viene in mente? Quello più strano. Qualcuno potrebbe dire rinoceronte, no? Il rinoceronte, con questo, diciamo, nasone in realtà, poi non è un naso, è un corno praticamente. Potrebbe dire, appunto, il rinoceronte. Gli elefanti sono stravaganti. Oppure qualcosa ancora di più strano, come per esempio gli ornitorinchi. Avete mai visto un ornitorinco? Ci sembra particolarmente strano. Le giraffe. Pensate alle giraffe, quanto sono stravaganti con questo collo lunghissimo. Bene, poi magari recuperiamo e voglio vedere che animali vi presentate voi. Ecco, tutti questi animali sono accumulati però da un fatto che potrebbe quasi colpirvi. Sono tutti molto imparentati a noi. A noi. A noi mammiferi. Quindi, per esempio, che ne so, questo è un gatto. Questo, per esempio, è un gatto. Guardate che bello. È super carino. Allora, in questo momento ho un piccolissimo problema con la camera. Vi chiedo scusa. Ora dovrei tornare normale a tutti gli effetti. Ed ecco, vi stavo dicendo, questo è un gatto e come tutti i gatti, appunto, è un mammifero. Ora, non solo c'è il gatto, ma ci sono tanti animali simili al gatto che sono imparentati a noi. Come per esempio, appunto, gli uccelli. Guardate, questo è un bellissimo uccellino e anche questo è molto imparentato a noi. Perché? Perché appartiene a un gruppo di animali molto esteso che è quello dei vertebrati. Vertebrati che, appunto, noi conosciamo abbastanza bene perché li vediamo sempre intorno a noi. Vediamo i mammiferi, vediamo gli uccelli, oppure, che ne so, vediamo i pesci. Anche i pesci sono animali veramente molto imparentati a noi, nonostante questi sì siano più stravaganti. Per esempio, almeno gli uccelli avevano quattro arti. In che senso? Gli uccelli hanno due zampe, hanno due ali e in questo sono simili a noi, che abbiamo, appunto, due gambe e due braccia. Bene, ecco, i pesci invece no, i pesci iniziano ad avere delle forme un po' più particolari. Eppure, c'è qualcosa di veramente molto strano in tutto questo. Ed è che l'albero della vita, quello che hanno descritto i biologi, i biologi in generale, è fatto di tantissimi grandi rami della vita e noi, insieme agli altri vertebrati, facciamo parte di un solo ramo. E poi ce ne sono altri trenta, ci sono circa una trentina di rami dell'albero della vita, di animali molto più strani da noi, molto più diversi da noi. Quindi, capiamoci, se vi sembra strano un uccello, gli animali che sono fuori dal ramo dei vertebrati, ecco che vi sembrerà ancora più strano. Anzi, a dire il vero, non è neppure del tutto vero quello che vi ho detto. Non solo noi facciamo parte di un unico ramo di trenta, ma facciamo parte di un unico ramo di trenta insieme ad altri due gruppi. Quello degli urocordati, guardate questi animaletti molto particolari che non sono altro, in un certo senso, che dei sacchettini di muco, si chiama proprio muco a tutti gli effetti, che nella loro vita non fanno altro che rimanere adesi, attaccate alle rocce e a filtrare l'acqua. Loro filtrano l'acqua tutto il tempo. Noi siamo molto imparentati a questi animali. Poi immaginatevi come una grande famiglia e loro sono i nostri parenti più stretti, tipo gli zii, per capirci. Insieme agli urocordati poi c'è un altro gruppetto, che è quello dei cefalocordati, a cui appartengono appunto questi animalini, molto semplici quasi, che sono anfiossi. Loro si muovono, a differenza degli urocordati, e loro per esempio possono nuotare e però anche loro filtrano, passano la giornata a filtrare l'acqua. Questo lo vedremo, è una cosa importantissima. Nell'acqua, quando voi andate a fare il bagno nel mare, non c'è solo acqua. Dentro all'acqua c'è un sacco di materiale, c'è un sacco di nutrienti, che si può in qualche modo provare ad estrarre, appunto filtrandola. Tantissimi animali non fanno altro che filtrare l'acqua per nutrirsi. Bene. E allora capite bene che quindi c'è un discorso, ma se noi siamo un ramo, insieme a questi due gruppi della vita e tutti gli altri rami, e tutti gli altri rami che animali sono, sono animali meno imparentati a noi e quindi molto più diversi. Ecco, io oggi voglio proprio farvi fare un giro in tutti questi rami dell'albero della vita, cercando di andare in ordine dagli animali che conosciamo di più a quelli che conosciamo meno. Quindi all'inizio vedrete animali appunto che più o meno avete già visto nella vostra vita e poi altri. Quindi cominciamo. Il primo grande altro ramo dell'albero della vita, e questo è gigantesco, la maggior parte degli animali fanno parte di questo singolo ramo, è quello degli artropodi, in cui per esempio dentro ci sono gli insetti. Gli insetti sono a tutti gli effetti artropodi, e quindi ecco, guardate, questa è una bellissima farfalla e fa parte appunto degli insetti. Insieme alle farfalle, per esempio, ci sono anche i coleotteri, i coleotteri a cui fa parte per esempio questa bellissima cucinella, e i coleotteri sono uno dei gruppi di insetti più grandi di tutti quanti. Quindi appunto ci sono i coleotteri, poi ci sono le formiche, le formiche sono un altro gruppo molto grande, che insieme, e sono loro a loro volta molto imparentate alle api, o in generale alle api e le vespe. Sono animali che conosciamo abbastanza bene, le conosciamo bene anche perché sono particolarmente collegate alla nostra vita, le conosciamo perché fanno il miele, ma non solo, sono importanti anche perché contribuiscono all'impollinazione delle piante. Quindi vanno sui fiori e contribuiscono fortemente alla loro impollinazione. Dopodiché, non ci sono però solo gli insetti, ci sono anche, per esempio, i crostacei. Crostacei, che sono sempre artropodi, e sono un gruppo enorme, ci sono i granchi, ci sono i gamberi, e sono appunto svariati gruppi di animali. Bene, a dire il vero, gli insetti non sono altro che praticamente un gruppo di crostacei che è uscito dall'acqua, ma non ci sono soltanto i crostacei all'interno del gruppo degli artropodi. Per esempio, ci sono anche i millepiedi e i centopiedi. Loro sono animali che si comportano in modo particolarmente diverso, per esempio i millepiedi tendono ad essere erbivori, mentre i centopiedi tendono ad essere carnivori, e loro sono molto imparentati, per esempio, agli insetti. Poi, oltre ai millepiedi e ai centopiedi, per esempio, ci sono i limuli, limuli che per esempio invece sono più imparentati ai ragni, e anche i ragni sono un altro gruppo di animali molto, molto, molto esteso. Per capirci, i ragni fanno una cosa che è abbastanza strana in natura. Vi dicevo, la maggior parte degli animali acquatici, la maggior parte degli animali acquatici, ha la strategia di filtrare, filtrare l'acqua. E i ragni fanno una cosa molto strana, che è quella di filtrare l'aria. Con le loro ragnatele, i ragni sono i filtratori dell'aria. Pensate quanto è strano è. Ovviamente l'aria è difficile da filtrare, perché tende ad asciugare alcune parti del corpo. Immaginatevi essere, appunto, un uro cordato che si mette a filtrare l'aria. Ecco, si asciugherebbe, rischerebbe di asciugarsi. I ragni, con le loro ragni a tela, hanno trovato una strategia per filtrare l'aria. Non ci sono solo i ragni, insieme ai ragni ci sono anche gli scorpioni. Io, mentre vi devo chiedere scusa, perché ho un piccolo problema alla fotocamera, motivo per cui in questo momento non mi state vedendo, sto cercando di risolverlo mentre vi spiego queste cose. Bene, questo era il grande ramo degli artropodi. C'è poi un altro ramo, molto conosciuto, ma molto affascinante, che è quello, chiaramente, dei molluschi. Quindi, banalmente, guardate, i molluschi sono famosi, come dice il nome, per essere, in un certo senso, molli, e sono molto vari, perché in realtà all'interno dei molluschi ci sono dei megagruppi molto particolari. Questa è una specie di bivalve, che appartiene, si chiama Pecten, ed è un animale che riesce persino a muoversi, ma non è l'unico, ce ne sono anche altri che si sanno muovere all'interno dei molluschi. Dentro ai molluschi, per esempio, ci sono i gasteropodi. Gasteropodi, come appunto questa bellissima chiocciola, a cui appartiene, appunto, che appartiene a un gruppo molto vasto. In realtà ci sono un sacco di gasteropodi che, per esempio, che non hanno il guscio. Un esempio bellissimo è questo, è quello dei, si chiamano nudi branchi, che sono questi gasteropodi che si trovano nei mari, quindi sono imparentati alle chiocciole, però non hanno il guscio, d'altro canto sono molto colorati e questo li aiuta molto, perché questo segnale ai predatori che loro sono tossici e che non vanno mangiati. Dentro ai molluschi c'è il bellissimo gruppo dei cefalopodi. Cefalopodi che sono animali veramente stravaganti e interessanti e che soprattutto hanno delle capacità legate a una specie di intelligenza che è sorprendente all'interno di questo gruppo di animali. I polpi sono animali veramente, veramente molto intelligenti, se appunto teniamo conto del fatto che sono molluschi. Bene. In realtà poi, appunto, dentro ai molluschi ci sono altri animali come per esempio i bivalvi, come queste cozze, e i bivalvi sono a loro volta animali filtratori. In realtà poi ci sono altri gruppi di molluschi meno conosciuti come i titoni, questo è un titone, e guardate che bello. Ce ne sono alcune appunto specie, spesso tropicali, che hanno dei colori così sgargianti. Se mai andate a fare snorkeling, a volte potete vedere questi animaletti tendenzialmente da noi sono grigi e spesso si trovano sotto ai sassi. Vediamo un altro gruppo. Altro gruppo, molto interessante, che è quello degli cnidari. Cnidari, noi li chiamiamo tendenzialmente meduse, per esempio, sono questo grande gruppo della vita veramente molto, veramente molto bello, veramente molto affascinante, che ha varie caratteristiche. Uno di questo è che spesso molti individui sono urticanti e cacciano spesso appunto urticando le loro prede. Però questa è solo una parte della storia, perché un sottogruppo importantissimo degli cnidari è quello dei coralli. I coralli sono a tutti gli effetti animali e a tutti gli effetti sono imparentati alle meduse. Anzi, fra poco vi faccio vedere che, vedete, questi cnidari, questi coralli, hanno questi polipetti molto piccoli che sono la parte che vive effettivamente dei coralli. Guardate, sono a tutti gli effetti delle piccole medusette che sbucano fuori dai coralli. Bene, un altro gruppo molto molto interessante è quello degli echinodermi, echinodermi a cui fanno parte, di cui fanno parte le stelle marine, i ricci e altri animali che magari non conoscete vi faccio vedere tra poco. Ora, questi animali si chiamano così echinodermi perché hanno una pelle molto dura o a volte perfino con degli aghi un po' come i ricci di mare e quindi ecco che hanno questa struttura molto resistente e poi a volte questi aghi quindi abbiamo appunto le stelle marine ma poi ci sono persino anche le oloturie le oloturie sono animali che per lo più si nutrono del detrito quindi appunto del mangiano in un certo senso ripuliscono la sabbia e si nutrono di quello che è nascosto all'interno della sabbia fra un po' poi vi faccio vedere che in realtà c'è un sacco di vita all'interno della sabbia le oloture possono essere molto colorate e questo per esempio è una specie tropicale questo appunto è un riccio di mare riccio di mare che per lo più si muovono molto lentamente perché appunto tanto nessuno prova a mangiarseli a parte a volte noi ed ecco che per esempio loro sono per lo più erbivori ci sono poi le stelle di mare che sono per lo più carnivore e alcune specie si mangiano i coralli altre specie vanno a caccia di bivalvi quindi appunto le cozze per esempio oppure tante altre specie ma dentro agli echinodermi ci sono anche delle specie che si muovono nuotando questo è un cosiddetto giglio di mare i cosiddetti crinoidei guardate come si muove è veramente fantastico e riesce a nuotare e riesce a nuotare nonostante tutto nonostante persino non abbia una testa nonostante persino e nonostante persino appunto funzioni in questo modo un po' particolare è comunque un animale che non ha né capo né coda veramente è un animale che ha una simmetria radiatasi cioè è a forma di stella altro mega gruppo della vita è quello dei cosiddetti anellidi anellidi che qui per esempio appartengono i i cosiddetti lombrichi lombrichi che noi conosciamo abbastanza bene in perché perché ci è capitato magari di vederli nella nostra vita e questo appunto per esempio è un lombrico ma negli anellidi non ci sono solo i lombrichi per esempio negli anellidi ci sono anche le sanguisughe sanguisughe che sono particolarmente famose perché come dice il loro nome sanguisughe alcune specie ma poche specie possono succhiare il sangue possono succhiare il sangue di vari mammiferi a volte anche uccelli e quindi ecco che possono succhiare il sangue anche della nostra specie però si tratta spesso di specie tropicali le sanguisughe che si trovano da noi per lo più invece si nutrono di altri piccoli animaletti a volte vermi a volte piccoli crostacei sono a tutti gli effetti degli animali carnivori non necessariamente succhiano il sangue ma c'è un sottogruppo degli anellidi che è veramente bellissimo ed è anche quello più abbondante è quello dei policheti che sono animali per lo più marini quindi acquatici che nuotano a tutti gli effetti pur essendo molto imparentati ai vermi guardate che belli hanno queste strutture che sembrano delle pinne che si chiamano chete e ecco che quindi possono possono nuotare da noi c'è una specie di polichete molto abbondante molto diffusa nei nostri cani sì nei nostri mari appunto scusate l'apsus che viene chiamata vermo cane no per quello mi è sfuggito dai nostri cani bene quindi attenti però lo vedete è un animale molto sgargiante molto colorato con queste bande rosse ecco state attenti perché è un animale che segnala qualcosa segnala il fatto che è urticante quindi se lo vedete nei mari evitate di toccarlo un altro gruppo di animali molto particolare è quello delle è quello delle spugne le spugne sono a tutti gli effetti animali sono animali filtratori e sono animali filtratori che sono probabilmente molto simili a come erano i primi animali che sono comparsi sulla terra quindi appunto sono animali bellissimi che anche loro vedete filtrano e non fanno altro che filtrare l'acqua del mare ed ecco che quindi non e quindi ecco che veramente sono molto simili ai primi animali noi sappiamo ormai che i primi animali sulla terra che si sono stati in qualche periodo tra 700 800 milioni di anni fa sono tempi lunghissimi tantissimo tempo fa ecco erano probabilmente simili alle spugne o qualcosa di simile un altro gruppo è quello dei nematodi i nematodi sono vermetti piccolissimi 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 che però sono molto abbondanti sulla terra sono ovunque sono nel suolo soprattutto ma anche nell'acqua e i nematodi aiutano a digerire tutto tutto quello che in un certo senso finisce nel suolo viene spesso digerito dai nematodi ovviamente insieme ai batteri e altri gruppi di animali noi conosciamo i nematodi purtroppo soprattutto perché tendono a essere patogeni tendono cioè a essere a fare del male o alle piante intorno a noi o a volte anche a animali come appunto per esempio noi va bene questo invece è un animale ancora più stravagante ed è veramente strano ecco se qualcuno mi dovessero dire fammi un esempio di un animale che sembra molto alieno cioè sembra quasi divenuto da un altro pianeta direi indubbiamente gli ctenofori guardatelo guardate che roba è un gruppo di animali in cui moltissime specie spesso sono bioluminescenti ok e guardate guardate che bello guardate come si muove guardate quei pettini no quelle quelle striscioline che in realtà sono molto simili a quelle delle meduse e quindi ecco che hanno una vita simile a quella delle meduse eppure ormai sappiamo che nonostante una volta venissero accumunati alle meduse ora sappiamo che non sono più molto imparentate alle meduse cioè sappiamo che non sono mai state chiaramente e anzi e anzi gli scienziati hanno passato svariati anni se non decenni a in un certo senso discutere se ritenere gli ctenofori gli animali più strani e più distanti da tutti gli altri animali se la sono giocata per anni con le spugne quindi forse le spugne o forse gli ctenofori sono gli animali meno imparentati a tutti gli altri animali vedete guardate che belli se ne trovano in tantissime forme e se ne trovano anche nei nostri mari anche nei nostri mari altro gruppo di animali questo ancora più questo è un po' meno stravagante però comunque guardate che belli che sono sono i cosiddetti platelminti a volte vengono anche chiamati vermi piatti e si chiamano così appunto perché sono piatti sono quasi come se fossero dei fogli guardate questi stanno interagendo in qualche modo o stanno lottando o si stanno salutando in qualche modo le stanno riconoscendo e guardate come si muovono ecco un aspetto interessantissimo dei vermi piatti è che la loro superficie è talmente ampia che riescono a respirare dalla pelle noi abbiamo i polmoni per respirare ecco loro respirano attraverso la pelle pensate quanto è strana come cosa vediamo ora un altro gruppo altro gruppo questo che si vede solo al microscopio e infatti vedrete fra poco che in realtà non è l'unico ci sono tantissimi gruppi di animali che si vedono solo al microscopio questo dovrebbe farci molto riflettere su quanto a volte la vita e il mondo del regno degli animali sia particolare e quanti animali si trovino solo in piccole gocce d'acqua guardate questo è un tardigrado guardate che carino qualcuno lo accomuna un orsetto sembra un piccolo orsetto microscopico che si trova nelle gocce d'acqua guardate è a tutti gli effetti un animale è imparentato agli insetti e infatti notate un po' non so se qualcuno l'ha notato non ha quattro zampe come noi o come un orso ma ne ha sei 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 come gli insetti guardate che bello bene il tardigrado è particolarmente famoso anche anche su internet per una sua caratteristica molto specifica guardate questo è un tardigrado al microscopio e questo è un tardigrado nella sua forma diciamo naturale quella che si trova normalmente quando è attivo ma poi il tardigrado può fare una cosa può perdere tutta l'acqua del suo corpo se perde tutta l'acqua del suo corpo va in questa forma o comunque una fetta enorme dell'acqua del suo corpo va in questa forma e in questa forma può resistere a tantissime situazioni può resistere alla completa mancanza di acqua può resistere a temperature bassissime può resistere a temperature altissime e può resistere persino alle condizioni dello spazio probabilmente e quindi ecco che è famoso in quanto l'animale indistruttibile il tardigrado è veramente difficile da distruggere siete pronti? vi sto per far vedere praticamente una piccola scena di caccia ok? perché ora vi presento un altro gruppo di animali quello degli onicofori e gli onicofori sono veramente strani e sono dei predatori quindi preparatevi perché quello che state per vedere è veramente strano e veramente molto particolare questo è un coleottero e questo è un onicoforo guardate che animale veramente fuori dai nostri schemi è un insetto è un verme cavolo è praticamente un verme con le zampe ecco sappiate che ovviamente è più imparentato agli insetti che ai vermi eppure guardate cosa fa caccia sparando una specie di muco muco che serve a intrappolare le prede pazzesco vero? guardate che roba di onicofori ce ne sono purtroppo pochissime specie sono tutte terrestri e si trovano soprattutto nella parte a sud del mondo quindi per esempio in Nuova Zelanda o per esempio nel sud delle Americhe quindi appunto nell'America del sud guardate viene anche chiamato verme di velluto perché appunto ha questa guardate sembra quasi come se fosse fatto di di velluto ecco qui è riuscito a intrappolare la preda e qua poi se la va a mangiare quindi avete proprio visto una scena di caccia non diversa da il leone che si va a mangiare la gazzella per capirci altro gruppo di animali uno di questi 30 gruppi di animali di cui stiamo parlando è quello dei nemertini i nemertini sono tutti animali marini che sono strani in quanto sono tutti lunghissimi e sono praticamente dei meganastri molto lunghi quindi guardate questo nemertino è lungo qualche decina di metri e anche loro un po' come i vermi piatti in realtà non sono questi sembra tondo ma fidatevi non lo è poi così tondo è un po' nastriforme ecco fra poco si vede ecco vedete che lo capite che è un po' forma di nastro quasi e anche lui riesce a respirare attraverso la pelle o in larga parte attraverso la pelle guardate guardate come si muove e quindi ecco che può diventare lungo infinitamente perché se ci pensate non ha problemi appunto per esempio di portare l'ossigeno da una parte all'altra del corpo animali così lunghi ce ne sono alcuni che arrivano anche a 50 metri si trovano soltanto in parti molto a nord per esempio nell'artico in realtà poi ci sono specie più piccole di nemertino che si trovano anche dalle nostre parti e nuotano e vedete come si muove ecco i nemertini hanno un aspetto particolare legato alla proboscide particolare hanno appunto questa struttura che in alcuni casi si può estroflettere si può portare fuori di sé questa struttura viene usata per varie cose per esempio per cacciare o per esempio per nutrirsi adesso vi faccio vedere un video che spesso gira su internet come oh mio dio ma questo è un alieno ecco questa è a tutti gli effetti la una proboscide di un nemertino questa è una struttura che i nemertini usano per digerire il cibo che mangiano questo perché a volte alcuni animali non digeriscono per forza all'interno del proprio corpo ma a volte all'esterno ecco ora se vedete su internet il video del oh mio dio ma questo è un alieno ecco voi rispondete no questo è un nemertino e a proposito di cose molto strane su internet sto per mostrarvi un gruppo di animali molto molto particolare che magari può anche suscitare quasi quasi fastidio quasi rabbia ed è quello dei nematomorfi è di nuovo un grande ramo della vita che vive tutta la vita come parassita parassita degli insetti e parassita di altri artropodi quindi abbiamo parlato degli insetti ma anche per esempio degli scorpioni ecco i nematomorfi vivono tutta la vita dentro agli animali quindi in questo momento ci sono dei nematomorfi che vivono dentro a questa mantide e poi possono uscire solo in una condizione se l'insetto cade in acqua e quindi ecco che se l'insetto cade in acqua i nematomorfi possono avere vivere quei pochi giorni di vita attiva che vivono appunto in acqua e poi basta poi si riproducono fanno le uova e le uova possono essere mangiate da altri insetti e ricomincia il ciclo della vita di questa specie o di queste specie che sono più di una imparentati oltretutto a questi nematomorfi ci sono altre specie un po' strane come appunto questi priapulidi che si possono trovare in vari ambienti spesso si trovano nei nostri mari sono spesso nella sabbia o sotto i sassi e sono dei vermi che appunto si nutrono anche loro dei detriti arriviamo e torniamo adesso adesso abbiamo una carrellata di animali molto piccoli che vivono e che spesso cioè che vivono spesso nella sabbia e che spesso sono poco conosciuti questi sono i loriciferi loriciferi che vi avverto sono stati scoperti molto di recente sono stati scoperti nel 1983 perché vivono soltanto tra i granelli di sabbia di alcune spiagge sempre a vivere nella sabbia ci sono i chinorinchi che sono questi guardateli come si muovono e ecco appunto animali della sabbia animali che vivono nel sedimento marino e che passano la loro vita a mangiarsi batteri oppure funghi oppure altri piccoli organismi piccolissimi come per esempio delle alghe guardate che strani questo è bellissimo i microscopi sono qualcosa di veramente di veramente fantastico e ci permettono di vedere un sacco della diversità animale che avete capito è spesso minuscola un altro esempio è quello dei gastrotrichi guardate che carini gastrotrichi vedete noi esseri umani siamo fantastici diamo il nome agli animali in base a delle caratteristiche che a noi ci colpiscono per esempio gastrotrichi il nome stesso significa che hanno i peli trichi sullo stomaco che gastro è stomaco in greco guardate che belli sono veramente molto stravaganti e anche loro vivono nelle goccioline d'acqua non so se avete mai fatto l'esperimento a scuola di prendere dell'acqua in un certo senso sporca da una piccola pozzanghera e vedere cosa c'è dentro ecco spesso c'è dentro questo altri animali altri animali molto piccoli che si gustano soprattutto al microscopio ma si possono vedere anche in altre situazioni sono gli entoprocta guardate sembrano delle piccole manine e anche questi sono animali che in un certo senso filtrano l'acqua anzi in un certo senso i piccoli entoprocta non sono altro che praticamente dei piccoli sono molto simili a dei piccoli coralli ai polipi dei coralli e a proposito di animali piccolissimi veramente rari che si trovano in condizioni molto rare ci sono i cicliofori cicliofori che tenetevi forte perché potrebbe colpirvi sono stati scoperti anche questi da molto poco vivono soltanto soltanto nel labbro inferiore degli astici quindi un intero mega ramo dell'albero della vita vive soltanto nel labbro inferiore degli astici e infatti esistono visto che esistono due specie di astici quello americano e quello europeo ecco che esistono due specie di cicliofori pazzesco vero? pazzesco pensate a quanto sono importanti quindi gli astici che dentro di sé trasportano un intero mega ramo della vita fantastico vedo una cosa pazzesca sempre della serie animali piccolissimi che vivono nelle gocce d'acqua o appunto tra la sabbia dei mari o nel fondo marino questo invece è uno gnatostomulide hanno tutti nomi stranissimi chiaramente gnatostomulide che si nutre soprattutto di funghi va a caccia di funghi ha una mascella enorme tanto che lo dice il nome gnato mascella e va a caccia di funghi in giro per la sabbia e a proposito di animali al microscopio questo è forse uno dei miei preferiti ci sono i rotiferi guardate rotiferi che si chiamano così perché hanno queste ciglia che assomigliano quasi a delle ruote no rotiferi e guardate non fanno altro che filtrare l'acqua questi i rotiferi sono soprattutto in acqua dolce infatti se voi appunto fate il gioco di provare a prendere le gocce d'acqua è facilissimo che li troviate ed ecco che si nutrono soprattutto batteri batteri oppure tanti altri piccoli esserini che si trovano nell'acqua vedete come rimane attaccato a questa è probabilmente un'alga e appunto sta bene attaccato ma d'altro canto non fa altro che filtrare l'acqua e poi eventualmente nutrirsi sono bellissimi io li adoro ah sì ovviamente gli animali così piccoli sono quasi trasparenti non hanno colori come noi tanto che si può vedere praticamente mentre all'interno un altro gruppo di animali intero ramo della vita gigantesco è quello dei foronidei foronidei che anche loro sono animali filtratori del mare e se li guardate bene assomigliano a un gruppo di animali che magari voi avete anche già visto magari nei porti se siete andati in una città di mare che sono appunto questi invece che sono gli spirografi gli spirografi in realtà sono anellidi quindi appunto sono imparentati ai lombrichi ai vermi come li chiamiamo i lombrichi eppure ci assomigliano tantissimo guardate quanto si assomigliano questi sono i foronidei questi sono gli spirografi ecco questo succede molto spesso in natura che delle forme che funzionano in modo particolare si ripetono perché perché di sì perché l'evoluzione spesso premia alcune forme piuttosto che altre un altro gruppo strano in un certo senso è quello dei brachiopodi che potrebbero assomigliare ai bivalvi che però appartengono ai molluschi i brachiopodi ora sono un gruppo rarissimo ci sono stati momenti della storia della vita sulla terra in cui dominavano i mari sono a tutti gli effetti animali filtratori un po' come i bivalvi ma a differenza delle cozze per esempio hanno quel peduncolo vedete quella struttura filiforme che spesso si attacca spesso finisce per esempio sotto la sabbia ecco le cozze per esempio quella struttura non ce l'hanno vi dicevo i brachiopodi sono stati importantissimi tanto che per esempio durante il periodo dei dinosauri se guardavate nei mari era normalissimo trovare grandi quantità di brachiopodi ma non di bivalvi non di cozze le cozze erano praticamente non c'erano praticamente e dopo l'estinzione dei bivalvi dopo l'estinzione degli dinosauri negli ultimi 65 milioni di anni ecco che invece i bivalvi hanno soppiantato molto spesso i brachiopodi questo è un animale stranissimo questo è un animale quasi sconosciuto se ne è scoperta una sola specie che è stata scoperta in un acquario un acquario marino si tratta di un animale anzi l'animale più semplice in assoluto non è altro che un piccolo strato di cellule che si muove e si nutre sono i cosetti placozoi e appunto hanno una vita veramente veramente molto semplice non fanno altro che muoversi e nutrirsi sono anche gli animali più semplici in quanto sono composti da pochissime cellule e sono anche a loro volta cellule molto semplici con una scarsa organizzazione sto per finire la rassegna poi ci sono per tutte le vostre domande e quindi preparateveli questo è un animale che vi sembrerà molto strano a me per me lo è tantissimo per un motivo molto semplice è un animale che si comporta un po' come se fosse una freccia vive nei mari spesso appunto in profondità e si nutre di piccoli pesci crostacei e lo fa come se fosse un pesce nuotando e mangiandosi gli altri animali questi animali si chiamano chetognati adesso lo so che questi animali hanno tutti nomi stranissimi eppure c'è un aspetto che a me colpisce tantissimo dei chetognati è che sono un po' come se fossero dei pesci perché appunto si muovono nuotano e così via eppure non hanno avuto il successo nella storia della vita che hanno avuto i pesci i pesci hanno dominato i mari e lo fanno ancora dopo milioni di anni mentre i chetognati no ecco è bello fantasticare che magari esiste in qualche modo la possibilità che invece questi animali avessero in qualche modo potuto conquistare la terra al posto dei pesci questo è un emi cordato come dice il nome si tratta di un verme a tutti gli effetti che si trova soprattutto nelle spiagge spiagge in varie parti del mondo e spesso ha una parte invece che filtra filtra che filtra quindi ecco per esempio che 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 può filtrare può filtrare l'acqua quindi vive in parte nascosto nella sabbia in parte filtra l'acqua ecco un aspetto interessante degli emi cordati è che essendo molto imparentato alle stelle marine è anche un animale molto imparentato a noi quindi pensate tutti gli animali che abbiamo visto fino adesso come per esempio gli insetti oppure i molluschi ecco sono molto meno imparentati a noi rispetto a questo rispetto a questo ecco interessante aspetto degli emi cordati è che la loro le loro il fatto che lo scavino delle buche rimane fossilizzato tanto che ci sono fossili che ormai sono ricondotti proprio agli emi cordati ora questo viaggio nella diversità animale spero vi sia in qualche modo piaciuto adesso tra poco rispondo anche alle vostre domande ma spero vi faccia capire quanto a volte noi tendiamo un po' a a sottostimare quanto è diverso e quanto è vario il mondo intorno a noi pensate agli animali noi appunto per lo più pensiamo a poche specie ai cani ai gatti in generale i mammiferi agli uccelli eppure poi c'è un mondo enorme di animali diversissimi molto diversi da noi che si trovano in questo mondo questo è un aspetto curioso questo è un aspetto che dovremmo in qualche modo anche noi rimarcare questo è qualcosa che dovremmo anche noi ricordarci anche quando magari parliamo di animali anche quando per esempio parliamo della protezione degli animali perché sapete no? gli animali nel mondo in questo momento hanno dei problemi in particolare quelli che vivono nelle foreste alcuni che vivono nei mari ed è importante aiutarli tanto che un sacco di biologi nella loro vita contribuiscono tantissimo ad aiutarli ecco bisogna ricordarsi quanto sia grande la variabilità e la diversità degli animali nel mondo perché appunto non esistono soltanto i mammiferi non esistono soltanto gli uccelli c'è molto di più lì nascosto esistono modi di essere animali molto diversi di fuori quindi questa è stata una mega prospettiva su gli animali intorno a noi ora ho visto già dei commenti e rispondo perché 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 sono molto interessanti e magari vi invito anche a farne farne altre quindi per esempio qualcuno chiedeva prima perché le spugne sono considerate animali e non piante in cosa si differenziano e allora questo è una cosa un aspetto interessantissimo in realtà ora i biologi hanno vari modi di approfondire di catalogare in un certo senso la biodiversità e la diversità degli animali e delle piante un modo è quello di guardare le caratteristiche comuni quindi appunto le spugne stanno ferme e quindi potrebbero assomigliare a delle piante però allora anche i coralli stanno fermi ma non solo avete visto altri animali che stavano fermi nel mondo nel mondo animale che vi ho presentato ed è vero ci sono un sacco di animali che stanno fermi anzi si dice sono sessili tendono a rimanere attaccati spesso a dei substrati quindi per esempio delle rocce abbiamo visto i tunicati che sono ok i quegli animali allora i tunicati che sono gli animali più imparentati a noi se scudiamo ovviamente tutti gli altri vertebrati sono animali fermi immobili e poi li consideriamo sempre animali perché perché poi se si vanno a guardare meglio questi animali come per esempio le spugne ci si accorge che hanno tutta una serie di caratteristiche di cellule per esempio che sono riconducibili molto più a noi animali che a che a che alle piante per esempio le spugne non si vede perché sono microscopici hanno delle cellule che praticamente come una specie di turbina posso chiedere alla regia di essere messo più grande 50-50 come una specie di turbina e permettono di far filtrare meglio l'acqua all'interno della spugna quindi ecco che si muovono in un certo senso le spugne hanno queste cellule hanno queste ciglia ecco nessuna pianta per esempio ha delle ciglia o delle cellule che si comportano così se non vabbè in casi molto estremi quindi questo è un fatto che per esempio accumula molto di più le spugne agli animali poi in generale ormai da 10-20 anni i biologi hanno la capacità di leggere il DNA degli animali delle piante questa è una cosa bellissima e quando si va a leggere il DNA ecco che si possono fare dei confronti molto migliori e quindi ecco che per esempio vedete l'albero della vita che c'è qui a fianco a me che è ormai stato in larga parte ricostruito si è potuto fare anche grazie al DNA e se tu io vado a fare l'analisi genetica appunto del DNA delle spugne mi accorgo che sono molto ma molto 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 più imparentati agli animali delle piante e anzi adesso vi dirò una cosa che magari vi sconvolge c'è un altro gruppo che non appartiene agli animali ma che è più imparentato agli animali delle piante ed è quello dei funghi noi ormai sappiamo che i funghi sono più imparentati agli animali che alle piante quindi se dovessi fare un albero di parentela direi che i funghi sono miei fratelli rispetto agli animali mentre le piante sono mie cugine e quindi sono più imparentate ai funghi va bene vedo un'altra domanda la scena del nematomorfe nel nematomorfo nell'amantide certo è quella è una delle scene più forti lì ci sarebbe anche da fare tutto un discorso sul fatto che esistono interi alberi della vita che vivono come parassiti è un dato di fatto è un fatto che a volte magari non vogliamo neanche raccontarci perché magari gli animali un po' più un po' più strani anche un po' brutti tendiamo a tenerli distanti da noi certo d'altro canto bisogna ricordarci che esistono hanno anche un ruolo ecologico importante per esempio i nematomorfi perché aiutano a tenere bassa la popolazione di alcuni insetti che altrimenti potrebbe scoppiare potrebbe diventare enorme come diffusione va bene e Miri ha ricordato il verme solitario sono della stessa specie allora no nel senso ricordano molto il verme solitario quindi per esempio esistono tanti parassiti che possiamo avere prendere anche noi noi mammifri e in particolare noi uomini che sono spesso vermi per esempio esistono variante specie di nematodi che possono per esempio infettarci l'intestino uno molto famoso è associato al cibo al pesce crudo per esempio se non viene trattato adeguatamente bene ma ce ne sono tanti altri anche in realtà e anzi è molto più diffuso di quello che si pensi il fatto che si possono avere dei vermi soprattutto appunto nematodi ma non solo nematodi soprattutto da bambini è una cosa che esiste esiste in tantissime parti del mondo e noi grazie all'igiene progressivamente li stiamo li stiamo perdendo e questo ha degli effetti per lo più positivi ma anche negativi però non ne parliamo questa è tutta un'altra storia ma lasciamo perdere il verme solitario è un parassita che sembra un nematomorfo ma è molto meno filiforme è più una fascetta quasi perché è un verme piatto quindi quando io vi ho parlato dei platelminti io vi ho fatto vedere dei platelminti liberi erano quei vermi molto piatti che lottavano praticamente nel mare o comunque in quel momento si stavano si stavano in qualche modo relazionando ecco in realtà esiste un ampio sottogruppo di vermi piatti che vive come parassiti vive come parassiti nostri vive come parassiti di altri mammiferi poi veramente sembra strano ma tante specie in tantissimi rami della vita qualche specie prima o poi diventa parassita perché essere parassiti è facile è molto facile mi inserisco dentro un animale e gli succhio nutrienti è facilissimo diventare un parassita sono anche molto protetto perché appunto non vengo predato al massimo appunto viene predato l'animale che a volte magari a me conviene persino ci sono dei parassiti che non vedono l'ora di essere predati adesso non voglio entrare troppo nello specifico però per esempio c'è un un piccolo organismo che non è neppure un animale che è molto famoso è la toxoplasma si chiama che per esempio infetta per lo più i topi e per diffondersi ha bisogno che il topo venga mangiato dai gatti i gatti mangiano i topi ma per esempio il toxoplasma aiuta il topo a essere mangiato dai gatti quindi per esempio questa è una storia pazzesca li rende più estroversi in un certo senso li rende più dinamici i topi infettati con il toxoplasma diventano meno spaventevoli ok tanto che tendono a uscire molto di più dalla tana e questo rende più probabile che vengono mangiati dai gatti ora di parassiti ce ne sono tantissimi alcuni sono animali altri sono altri organismi altri sono batterie virus per capirci e la presenza di parassiti in natura è anche qualcosa che in un certo senso è quasi fondamentale che ci sia prima vi dicevo degli nematomorfi che vivono dentro agli insetti esiste esiste un intero gruppo di insetti scusate se vi racconto questo lato un po' più cruento e anche un po' più brutto del mondo animale però è giusto rendersi conto che esista esiste un intero gruppo di insetti che è quello delle vespe e esiste un sottogruppo di vespe che sono molto piccole che per esempio loro per riprodursi fanno le uova dentro a altri insetti eppure però questa cosa è importantissima perché queste si chiamano vespe parassitoidi sono fondamentali poi per mantenere diciamo non fare troppo delle esplosioni di popolazioni di insetti quindi appunto pensate alle mosche pensate alle locuste pensate alle cavallette se queste popolazioni di insetti esplodono non è una cosa buona ecco a livello ecologico ci sono dei gruppi di animali che soltanto parassiti permettono di mantenere non troppo alta questa esplosione sono specie di predatori che però vivono dentro agli altri organismi quindi io sto aspettando chiaramente le vostre domande immagino che comunque ci sia un limite legato alla 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 chat sarei anche curioso di capire per esempio quale di questi gruppi di animali vi ha colpito più più degli altri perché sono alcuni più affascinanti di altri ma già che ci sono vi racconto anche una cosina molto divertente nella mia immagine qui a fianco vedete ci sono quattro animali uno di questi è l'unicoforo l'unicoforo è quello di cui vi ho fatto vedere quel piccolo quella piccola scena di caccia in cui l'unicoforo si andava a mangiare un coleottero bene gli unicofori sono animali molto strani non solo per tutte le cose che vi ho raccontato perché appunto per esempio sono quasi una via di mezzo tra un verme e un insetto anche se ovviamente non ha senso questa distinzione ma perché vivono soltanto sulla terra ferma e voi direte va bene ma è normale eh no assolutamente no la vita noi ormai lo sappiamo è nata nell'acqua tutti gli esseri viventi sono nati i processi evolutivi tutti gli animali in qualche modo sono nati nell'acqua anche i nostri antenati stavano nell'acqua infatti per esempio noi tre, quattro, cinquecento milioni di anni fa i nostri antenati erano abbastanza simili a dei pesci anzi possiamo tranquillamente dire che erano dei pesci quindi l'inizio della nostra storia è quella c'erano dei pesci che ci assomigliavano eppure appunto ci sono ancora i pesci ci sono ancora dei vertebrati d'acqua dolce appunto o d'acqua marina ci sono ancora dei vertebrati marini come appunto i pesci ecco l'unicoforo è l'unico animale in cui non c'è questa cosa l'unicoforo ha adesso soltanto specie terrestri e tutte le specie acquatiche di unicoforo sono sparite sono sparite nel nulla non ci sono più abbiamo dei fossili fossili antichissimi si parla di 500 milioni di anni fa e poi basta e poi gli unicofori sono usciti dall'acqua sono andati sulla terraferma hanno iniziato a vivere sulla terraferma e ora li conosciamo e poi tutte le specie acquatiche si sono estinte ora non ci sono più come i dinosauri anche se in realtà poi i dinosauri non si sono veramente estinti del tutto perché gli uccelli sono un piccolissimo gruppo di dinosauri che è rimasto ma questa è un'altra storia ancora allora io poi a parte aspettare le vostre domande che però a questo punto immagine ci siano dei problemi anche poi di della chat ma va bene vi posso comunque dire una cosa io posso rispondere chiaramente alle vostre domande in che senso nel senso che se anche adesso non siamo riusciti a farlo se voi mi fate le domande e mandate delle mail si può io posso rispondere quindi appunto anche se ora non ci siamo riusciti anche se ora non ci siamo riusciti anzi adesso non ce n'è una quindi fra poco la leggo e si può fare in modo che poi voi le facciate io le rispondo eventualmente i vostri insegnanti possono rispondervi anche loro nei prossimi giorni quindi questa è una possibilità d'altro canto poi posso ricordarvi che c'è da compilare un questionario questionario in cui ovviamente gli insegnanti possono dire com'è andato questo webinar quindi vedo intanto un'altra domanda nei commenti e quindi quali degli animali visti degli animali che abbiamo visto potremmo incontrare nei nostri mari questa estate è tantissimi da vedere a occhio nudo con la maschera i platelmenti si vedono allora animali che abbiamo visto che si possono vedere i nostri animali ce ne sono molti abbiamo visto il vermo cane tutti i molluschi che abbiamo visto si possono vedere da noi quindi ci sono un sacco di chiocciole ci sono un sacco di bivalvi ci sono un sacco di cefalopodi se riuscite a vedere se riuscite a vedere i polpi è un'esperienza bellissima a volte alcuni polpi per esempio vengono anche a giocare con voi o comunque magari si avvicinano sono animali molto curiosi si possono vedere per esempio le meduse ma anche gli ctenofori gli ctenofori si possono vedere sono anche abbastanza diffusi e bisogna saperli riconoscere perché si potrebbero confondere con le meduse poi a dire il vero la maggior parte degli ctenofori che si vedono vi ricordate quelli coloratissimi belli non è detto che da noi siano così bioluminescenti cioè che affacciano luce ecco in alcuni casi ci sono delle specie anche da noi che sono bioluminescenti altre volte no altre volte ci sono questi ctenofori molto diffusi da noi che sono praticamente hanno una forma quasi da anguria una piccola anguria con un buco in mezzo sono i ctenofori boroidei si chiamano e quelli si possono vedere per esempio io ho fatto il bagno a Trieste o vicino a Trieste e li ho visti molte volte si possono vedere i plantelmenti i plantelmenti da noi sono piccoli bisogna alzare i sassi quindi sotto acqua con la maschera alzo un sasso e guardo cosa c'è sotto e sotto magari si possono trovare un sacco di cosine molto 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 particolari potete trovare i chitoni che appunto sono ancora molluschi si possono trovare altri gruppi di vario tipo certamente per il questionario bisogna ovviamente collegare bisogna mandare una mail a info chioccio la scuola punto www.irc.it quindi io con questo vi ringrazio per l'attenzione vi chiedo anche scusa se ci sono stati un po' di problemi tecnici che ora in parte abbiamo risolto in parte eventualmente per altri webinar verranno risolti alla radice spero perché a fine sono io che li ho fatti in larga parte e quindi vi chiedo scusa e però allo stesso tempo vi ringrazio quindi potete appunto attraverso questi vari link fare le varie cose quindi potete andare nel link per trovare la mailing list per iscrivervi potete scrivere al sito alla mail info chioccio la scuola punto www.irc.it oppure potete anche recuperare questo webinar o altri chiaramente nel sito youtube www.irc.it in cui trovate questo webinar e altri e basta io con questo ho concluso se non ci sono altre domande vi saluto e basta ringrazio Airc e ringrazio tutti voi per questa per questa giornata per questo webinar ciao a tutti quanti grazie a tutti